Ciao a tutti, siamo arrivati a venerdì, la settimana è finita, è finito anche il mese, siamo al 30 di novembre, il vuo di oggi è Fight Club, sono 3 round 4 time dove faremo un minuto di thruster, un minuto di power clean, un minuto di box jump, un minuto di pull up, un minuto di calories bike e un minuto di rest, pesi carichi sulla grafica qui di fianco, per questa settimana ed anche per questo mese è tutto, ci rivediamo lunedì, ciao, buon weekend.